Ciao sono Korkenji, oggi siamo nuovamente qui su Dungeon Defenders 2 che potrete avere gratuitamente al link che metto in descrizione ci sono delle key, ce ne erano sui 10.000 quindi li ricaricano i pacchetti di 10.000 key ogni volta e adesso ce ne sono circa 7.500 quindi considerando che video che sto girando adesso e di ieri dovrebbero ancora essere ce n'è abbastanza comunque basta mettere il codice su Steam, attivarlo e il gioco è fatto quindi io direi di andare a provarlo Searching for Session non ho giocato al primo giocheremo al secondo vediamo un po' ok, mi fa scegliere la classe c'è il mago il guerriero l'arciere o il mona vediamo un po' torri barriere torri torri questo piazza torri questo mette trappole questo mette una torre col cannone a mettere i spuntoni il balista, il training dummy e il monaco ok, sono indeciso tra il mago l'eroe qua del guerriero non proviamo a mettere il guerriero dai ah ok, noi mettiamo solo torri ok, ability va bene, va bene, va bene andiamo così vediamo di chiamarci così conf eeeh è in inglese quindi e spero che anche l'audio sia non troppo alto e non troppo basso perché non avendolo mai giocato non sapevo come settare qua ci danno dentro io non sento musica non sento niente vediamo un po' qua se la spassano però io voglio giocare c'è qualcosa in quel in quel diamante vediamo un po' uuuuh c'è un potenziato però io voglio giocare fatemi giocare ok, si sono alleati hanno portato via la gemma se c'è il cattivo che vuole possessarsene ok un po' prendiamo wild e ci muoviamo bene aspettate un attimo che opzioni alzo solo un po' spero che poi non sia troppo alto ma io voglio sentirci bene ok ehi 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 allora con wild mi muovo e va bene con sinistro ci do con questi tasti perfetto critical ok questo è il mio carretto del cristallo allora j to open quest menu ok defend the gate of dragon fall ok perfetto quindi devo solo difenderlo da questi qua però io come tolgo critico ok mi ha dato tutta la vita si che bravo oh grazie mi ha dato un po' di roba ok mi ha dato delle cose per aumentare le mie difese quindi ok quindi qua abbiamo un po' di difese cosa dobbiamo fare ah sempre lo stesso però come posiziono le mie difese ah ok con uno e con cinque con cinque non ne ho abbastanza invece con uno posso fare ah con quattro mi curo e con uno brandisco la lama perfetto allora qua cosa c'è non posso andarci ok non possiamo passarlo per ora allora questo qua posso ah l'attivo ah ok questo qua è la trappola questa è la trappola ci sono i diamanti qui andiamo a prenderli ok come faccio a prenderli comunque devo aspettare che che loro avanzino o mi sbaglio ok ecco lì c'è qualcosa andiamo attivato bene premo cinque per cosa ah ok si può piazzare questo va bene proviamo a metterlo qui di qua di qua perfetto costruiamo poi non so se l'ho costruito nel punto giusto ma va bene vediamo di costruirne un altro qui qua che forse prendiamo più più roba perfetto poi speriamo di piazzarne ancora un altro qui bene in faccia proprio ok da qui possono arrivare al massimo ne mettiamo anche un altro tanto ci sta qua posso metterne un altro così così prende tutto poi vediamo un po' eeeh mettiamo anche uno più indietro oppala questo è bastardo allora green mana posso ripararla allora ripariamo questo repair repair non posso ripararlo forse allora continuiamo a costruire una qui anche un po' più vicino così se dovessero mai riuscire a farmi fuori questi cannonball vediamo un po' ok mettiamone ancora uno qui g ma proviamo a farlo già adesso secondo me potrebbe già bastare vediamo un po' intanto io poi posso combattere con l'uno vero uèh ok se se l'ho già fatto caro mio quit vediamo da dove arrivano andiamo ad arana ma beh no qua ne ho messo tre quindi proviamo ad andare di qua qui questo qua sembra abbastanza facile poi ne ho messi anche abbastanza vediamo un po' dove arrivano di qua proviamo ad andare di qua in realtà potrei anche attivare questo che se lo attivo ecco infatti mi fa questo posso anche passare di qua e attivare questo ok boom baby ok quindi ho queste due armi in più bene però oh guarda quanta roba prendi 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 solo prendi solo cosa sono queste cose che lascia ah ok sono per rigenerarmi ok vai vai schiattate ok bene passiamo ancora l'altra via build phase ancora no dovrebbe essere finito se wallbores medium melee toy to tank goblins using magical maze ok saranno le sue abilità quindi adesso c'è sto sto qua che romperà le palle vediamo ne mettiamo ancora uno qui facciamo cos'è tanto però non sono neanche riusciti a a passare però incoming da qui da qui sembra quindi ne mettiamo uno qui visto che arriverà da qui al massimo ne mettiamo ancora un altro mettiamo 5 e via io direi che così può anche bastare proviamo a mettere G però questo non so che sia eh posso prenderlo ah ok ci sarà un inventario penso no la palle oh arriva 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 guardalo lì uh ciao 25 mira addirittura aspetta aspetta che qua c'ho oh no questo non mi serve per sta fila aspettiamo che si avvicini alle torrette ok attenzione 4 perfetto eh è già morto è già morto muori muori perfetto perfetto c'è qualcuno che è riuscito a passare no intanto mi raccoco tutto questo perfetto questo qua forse adesso mi serve se riesco a saltarci sopra via con questo via con questo perfetto prendiamoci tutto vediamo che qua le torrette stanno ah qua c'è una ricarica perfetto buono buono benissimo facciamo 4 così meno ci riprendiamo e abbiamo bento si vediamo cosa succederà la nostra gemma ci da qualche potenziamento qualcosa andiamo a vedere ok thank you for your help ok hanno portato il coso al castello perfetto quindi apriamo la cesta vediamo cosa ci danno quanta roba uno scudo un altro scudo due armi e questo cos'è un altro scudo perfetto ok quindi you can pick up the heat and by pressing ok ok quindi posso fare G powerful shield perfetto to the burn vediamo un attimo la taverna ok questa dovrebbe essere la taverna vediamo un po' ecco social tavern quindi ci saranno anche altri ok visit the knife commander ok questo credo lo farò per conto mio se lo so oh perché sono solito di livello qua sono altri welcome back perfetto quindi vi ricordo che c'è il link in descrizione dove poter scaricare la key gratuitamente spero che il gioco vi piaccia e quindi io direi che anche per questo episodio è tutto come sempre commentate iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo episodio ciao 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 ciao